La mia vita è stretta, mangio un particolo di tutto, vivo di fregole, ma non posso ne respirare manco a Pasqua. Mare, vi ricordo che sono senza saon. Saon? Le mani senza saon non le viene pulite. Perché non te le grate abbastanza? Non volevo fare il male. Sei partigiani? Sì, sono del passaggio. Basta fermarsi, allora forse no. Devo fare la vostra guerra in città, come voi, fra voi altri. Noi altri non sono né quei fascisti, né quei tedeschi, né quei americani. Noi altri vogliono storia per conto nostro. La prova è profonda. È vero che avete i ribelli in casa? Se vorresti, vi ha fatto qualche maia grazia. Vi ha la prova! Ha sbagliato, c'è farli in casa. Ma mi non li voleva... Quei altri soldati tutti dice che coppa è, che roba è, che fai danni in dove che passè. E cosa fa la guerra se coppa? Per non essere coppa? È come la tempesta, la guerra. Oh, mi raccomande. Non farcià con le ha. Oh, mi raccomande. Grazie.